Le opere, prima volevo dire, prima invece appuntate le piccole opere che sono state fatte perché poi dobbiamo dare merito a quelle che è stato fatte, un marciapiede per esempio l'hanno fatto, questo bisogna dire, è vero, Donino Ferraro, grande opera, l'unica cosa che si sono dimenticati i raccoglitori di acqua, perché quando passano fanno un bagno, quindi i donbini, perché giustamente, e quelli secondo me sono da fare, perché onestamente uno non può, è sicuro di stare tranquillo su un marciapiede, poi si piglia, vabbè, quindi i marciapiede